Buongiorno a tutti e benvenuti in cucina con il mezzelfo Allora, oggi andremo a fare un video un po' più particolare Andremo a cucinare alcuni piatti tipici del gioco Dungeons & Dragons D&D Allora, facciamo una premessa Allora, intanto sto cucinando queste pietanze perché oggi pomeriggio io e dei miei amici partiremo per Lucca per festeggiare Halloween stasera E domani andremo a Lucca Comics e come potrete già immaginare il mio travestimento sarà da mezzelfo Come è poi il mio personaggio in D&D Ma altro motivo per cui faremo oggi queste pietanze È perché appunto nell'ultimo anno e mezzo mi sono avvicinata molto a questo gioco Ho iniziato a giocarci insieme a dei miei amici e mi ci sono appassionate diciamo È molto bello, ti prende molto, ti fa immedesimare molto in tutta la storia, il personaggio e così Quindi, bando alle ciance, iniziamo a fare la prima pietanza Intanto vi dico che sono le ore Sette Con furore apriamo la panetteria del mezzelfo Bene, eccoci qua tutti apparecchiati, pronti per la prima ricetta Che sarà il pane dell'elfo Che, insomma, è un pane dolce molto adatto a noi elfi Bene, allora, intanto prepariamo l'impasto Comunque, il gentile manuale del cuoco di D&D Non si è degnato di mettere le grammature Ma soltanto tutte quelle cose pazze americane Ma io dico Ma non possiamo fare un'unità di misura mondiale Così ci mettiamo tutti d'accordo Perché sono stata lì tutta a trafficare Con la calcolatrice su internet A cercare tutte le conversioni Cioè, perché? Comunque, stavamo dicendo 312 grammi di farina Primo ingrediente Poi 60 grammi di farina integrale Un uovo Poi 183 grammi di latte 75 grammi di miele E 56 grammi di burro Benissimo Qui ho la mia ricetta Possiamo partire Intanto ho già messo 45 grammi di latte tiepido Nella nostra planetaria Con l'attrezzo a foglia Altro ingrediente Bustina di lievito Pane angeli Mastro fornaio Sono io il mastro fornaio Comunque Mettiamo la bustina di lievito In 45 grammi di latte tiepido Bene Aggiungere il latte mancante Poi Il miele L'uovo Ecco Il burro Giusto un pizzichino Ok E Iniziamo a girare un po' Abbiamo mischiato Tutti gli ingredienti Bagnati E adesso Vado a cambiare La punta Che mi è caduta Perfetto Il genio Il genio Della cucina E Vado a mettere Quella Apposta Per gli impasti Di pane Da bravo Mastro fornaio Ok Dopodiché Quindi cosa dobbiamo fare Aggiungiamo La farina Normale E La farina Integrale Benissimo E Indovinate cosa facciamo Giriamo Che bazza Qua la La planetaria Che fa tutto da sole Non mi sporco le mani Abbiamo fatto Impastare La planetaria Per otto minuti Dopo gli otto minuti Dobbiamo Imburrare Una ciotola Grande E Andiamola A Imburrare Non so come fare Che mi sporco Tutte le mani Imburriamo Imburriamo Ecco Avevo detto Che non mi sarei Sporcata Le mani Usando la planetaria Me la sono tirata E Il Karma Mi ha punito Con Un panetto Di burro Sotto l'unghia Vabbè Dai Eh Sono i rischi Del mestiere Del mastro fornaio Giusto così Con la marisa Prendiamo La nostra Bella pasta Che No Mi piace molto Come è venuta E La mettiamo Dentro Alla Bowl Imburrata La copriamo E La andiamo A mettere Sotto le coperte A fare Un bel Sonnellino Di bellezza La pasta Deve raddoppiare E la lasciamo Livitare Per Un'ora A dopo Eccoci qui Tornati Dopo Un'ora Di attesa Per Il nostro Bambino Che è stato Finalmente Partorito Vediamo Come è diventato Sì 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 Ma Parliamone È gigante Poi Tutto il rumore Di bolle Bene Però Innanzitutto Andiamo a preparare Ciò che metteremo Dentro A questo Rotolino Dolce Per la colazione Allora Prendiamo Una bilancia E una Ciotolina Pesiamo 100 grammi Di zucchero Poi 7 grammi Di cannella Io vi dico La verità Vabbè Sono confusa Direi che Questa cannella Basta Che sennò Diventa troppa O no Vabbè Al massimo Andremo un po' A sentimento Ok Più 7 grammi Di farina Ecco Già esagerato Vabbè Ok E questo sarà Il nostro Filling Quello che andremo A mettere Una volta Che abbiamo Steso La pasta Allora Come potete Vedere Ho messo La nostra Il nostro Bambino Sul piano Un po' Infarinato Così non Si attacca E adesso Iniziamo a Darci di Mattarello Dobbiamo Stenderla Mantenendo Però Comunque La dimensione La dimensione Della nostra Teglia Che è Questa Che ho Già Imburrato Vedete Già Questa è Troppo Larga La faccio Un po' Più Strettina E Continuo Di Mattarello Non troppo Deve essere Semplicemente Tutto Uguale Come spessore Circa 1-2 cm Questo me lo sono inventato Però Si Con tutte queste misure Americane Un inch Un questo Un quello C'è Non se ne esce più Però purtroppo Solo gli americani Sono così Creativi Da Decidere Di fare Un Manuale Delle Ricette Di D&D Bellissimo Bene Possiamo dire Che il nostro Bambino È stato Steso E adesso Andiamo A fare Il filling Con Il preparato Di zucchero Cannella Farina Però Prima Dobbiamo Spennellare Un po' Di uovo Mischiato A un goccino D'acqua E andiamo A spennellare Non troppo Cioè Non deve essere Troppo bagnato Penso Io qua Faccio Quella che se ne Intende Come se la ricetta L'avessi fatta io Cioè La sto copiando Pari pari Dal libro Qua Degli incantesimi Guarda Già il fatto Che sia venuta Bene La pasta Cioè Di una consistenza Fattibile È già Un grandissimo Traguardo È questo Andiamo a Mettere Tutto La nostra Polverina Magica Di cannella Farina E Zucchero Con calma Ci arrivo L'ho arrotolato Guardate che bel Rotolo Che ho fatto E adesso Lo andiamo a mettere Nel suo Lettino Tracchete E Anche questa volta Lo lasciamo riposare Eccoci qua Con il bambino Che ha riposato Ora ve lo faccio vedere Bam Moltiplicato Cioè Bellissimo Adesso Lo mettiamo in forno A 200 gradi Per 10 minuti Poi Abbassiamo A 180 170 E lo teniamo Per 25 30 minuti Mi forniamo E che la magia Abbia inizio È la seconda Pietanza Che andremo a preparare Oggi Del manuale Di D&D E sarà I salatini Dell'orco O del nano Insomma Mi sbaglio sempre Però Siamo lì Insomma E Niente Iniziamo con Il ripieno Che andrà all'interno Di questo rotolo Oggi è la giornata Dei rotoli Insomma Che andrà avanti Andrà dentro A questo rotolo E Cosa abbiamo bisogno Abbiamo bisogno Di 340 grammi Di funghi 30 grammi Di burro Due scalogni Tritati molto finemente Del sale Timo E 27 grammi Di parmigiano Grattugiato Questo verrà Cotto in padella E successivamente Messo all'interno Della pasta Andiamo A cucinare Oh mio dio Oh mio dio Sono cieca Ok Finiamo subito Così dopo Basta Veloce 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 Perché Con il nostro Scalogno Da una parte Dopo esserci Ripresi Dal pianto Possiamo iniziare A tagliare I nostri funghetti Che dovremmo mettere Poi In questo Che è il frullatore Perché Devono essere tagliati Molto finemente Cioè Quindi lo faccio Un po' Li divido In quattro E basta Poi Trito Direttamente Qua non abbiamo Tempo Da perdere Un fungo Siamese Che carino Vero Oh Questi funghi Fanno un profumino Un profumino Proprio buono Bene Quasi finito E ora Frulliamo Eccoci qui Nella nuova location Dei fornelli Ho messo Sul fuoco Il Lo scalogno Tritato E 30 grammi Di burro Dobbiamo Far soffriggere E Dopodiché Dobbiamo Aggiungere I I nostri Funghi Bene Sta iniziando A soffriggere E c'è una puzza Di burro Che Non vi dico Ma va bene Abbassiamo Un pelino Il fuego E Aggiungiamo I nostri Funghi Tritati Ovviamente Tracca Dobbiamo Lasciare Andare Tutto A fiamma Medio alta Per Circa 8 minuti Quindi Qua io Continuo A mescolare Aggiungo 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 Un po' Di sale Abbiamo Tolto Dal fuoco I Funghi Tutti Belli Scolati Dalla Loro Acqua Così Non bagnano Niente E Adesso Ci vado Ad aggiungere 5 grammi Mi sa Che andrò Un po' A sentimento Del Di timo Così Un profumino E Dopo questi 5 grammi Di timo Cosa ci Dobbiamo Aggiungere I 27 Grammi Di Parmigiano Tracca Benissimo Per fare La sfoglia Che cosa Ci serve Allora 15 grammi Di bicarbonato 5 Di zucchero 281 Grammi Di farina Sale 160 Grammi Di groviera Grattugiato 183 grammi Di latticello Che Potete fare Anche Per i fatti Vostri Come ho fatto Io Quindi Con 183 grammi Di latte E un cucchiaino Di limone Dentro Diventerà Tutto un po' Reagrumato È normale E 90 grammi Di burro Bene Molto Semplice Dobbiamo Semplicemente Mettere Tutti Gli ingredienti Dentro A questa Bella Planetaria Scoperta Della vita Quindi Farina Zucchero Bicarbonato Groviera Un pizzichino Di sale Come al solito Bene E Mischiamo Tutto insieme Aggiungiamo Il Latticello E Burro Bene Abbiamo amalgamato Tutti gli ingredienti Adesso Non ci resta che Far partire Di nuovo La magica Macchina E poi Siamo a posto Con la nostra Pasta La nostra Pallona D'impasto È Uscita Dalla Planetaria Perfettamente Impastata Ora La mettiamo Su un piano Infarinato E Iniziamo Con il Mattarello Come prima A dare Forma Al nostro Rotolo Stesa Perfettamente Ora Dobbiamo Metterci Sopra Il Filling Di Funghi Parmigiano E Scalogno Che abbiamo Fatto In precedenza Comunque La pasta Si tira Da dio Proprio Grandi Ricette Bravi Chiunque Le abbia Inventate Comunque Niente Adesso Spalmiamo Se ci Riusciamo E poi Arrotoliamo Come prima Però Stavolta Dobbiamo Fare Un Rotolone Lunghissimo Eccoci Qua Con Il Rotolone Trac Adesso Dobbiamo Tagliarlo E Lo Mettiamo In Questa Teglia Abbiamo Finito I Nostri Rotolini Salati Adesso Li Andiamo A Spennellare Leggermente Con Un Po Di Uoven E Dopodiché Li Mettiamo In Forno A 200 Grad Benissimo In Forniamo 200 Grad 18 Minuti E Arrivederci Bene Ragazzi Siamo Arrivati Alla Fine Di Questo Video Come Potete Vedere Le Nostre Cosine Sono State Sfornate Guardate Che Bello Il Mio Bambino Quanto Pesa Ma Come Un Bambino Vero Un Bambino Di Dieci Anni Circa Più O Meno Niente Dopo Tutte Queste Ore Di Lievitazione Sono Molto Soddisfatta Guardate Che Belli I Bei Rotolini Del Nano E Il Pane Elfico Sono Super Soddisfatta E Adesso Li Proveremo E Niente Se Vi Piaciuto Il Video Iscrivetevi Al Canale E Mettete Like Al Video Spero Vi Siano Piaciute Le Mie Pazze Ricette Di D&D E Niente Alla Prossima